Una ingegnosa invenzione meccanica, un passatempo, uno strumento didattico. Tutto questo nella forma di un cubo colorato. E per il suo inventore, l'architetto ungherese Erne Rubik, è il successo mondiale. Rubik afferma che il gioco è nato come tale, un oggetto per usare la mente e la fantasia. Tuttavia, dietro le rotazioni spaziali, c'è parecchia scienza. I cubetti possono combinarsi tra loro in più di 43 miliardi di miliardi di modi. In un gioco del genere, si può stabilire quanto ci sia di ragionamento e quanto di intuizioni. È difficile dirlo. Ciò che uno fa è sempre un misto di intuizione e di sapere. In effetti, utilizziamo l'intuizione per scoprire come usare ciò che conosciamo e per scegliere quale parte del nostro sapere può servirci. Una volta richiamati alla memoria questi dati, cerchiamo di vedere come sia possibile combinare assieme le varie parti. Nelle parole di Rubik, i discorsi sulla vita e la visione del cubo si intricciano. Ogni azione modifica la situazione precedente, condizionando il futuro. L'essenza di ogni metodo è quella di seguire varie sequenze di mosse che alterano la posizione di alcuni cubetti, lasciando gli altri immutati. Se non si segue un metodo, non si riesce ad arrivare al risultato finale. Il sistema di risoluzione più diffuso partendo da una posizione qualsiasi è quello cosiddetto per strati. Si costituisce il primo strato, poi quello di mezzo e infine si sistema il terzo gruppo di nove cubetti. I solutori esperti sono un po' come i virtuosi del pianoforte che hanno memorizzato i passaggi difficili. Sappiamo già quale sia il numero minimo possibile di mosse secondo la teoria. Sono circa 20 operazioni. I matematici dessignano questo procedimento col termine di algoritmo di Dio perché Dio solo sa come sia. Allo stadio attuale delle ricerche l'effettivo numero minimo di mosse trovate è 52. Con 52 mosse possiamo risolvere il cubo partendo da qualsiasi situazione. paradossalmente non sono né i matematici né il suo inventore i più veloci a risolvere il cubo. Ragazzini di tutto il mondo si cimentano in competizioni alimentate ad arte dai venditori del giocattolo per abbassare ogni volta il proprio record. I migliori del mondo ci mettono già meno di 30 secondi. Per una impresa del genere ci vogliono parecchi tipi di abilità. Primo, una perfetta conoscenza del cubo. Poi una serie raffinata di operatori, cioè di mosse standard da applicare in ogni situazione. Terzo, una padronanza tale da poter eseguire le mosse dormendo. Quarto, una grande velocità con le mani. e da ultimo un cubo ben oliato che possa muoversi al minimo tocco. Ci si può chiedere che senso abbia un tale cubo da corsa, ma non dimentichiamo che si tratta di un gioco. Un gioco che stimola le attività cerebrali, quindi un giocattolo intelligente. Il suo successo può essere dovuto ai colori vivaci, al fascino della manipolazione, alla possibilità di risolverlo in moltissimi modi, alla logica che nasconde, alla possibilità di competere. È un gioco serio e contagioso. Ma è davvero solo un gioco? No, certo, è molto di più. Per me il gioco è l'espressione del pensiero. La parola gioco per me può significare molto di più di ciò che si pensa nell'accezione comune del termine. La parola gioco per me può significare molto di più di tutti. Grazie a tutti.